E la borsa di ricerca dell'edizione 2020 Pasquale Pisani è stata assegnata all'Istituto di ricerca Spallanzani di Roma, ma anche all'Istituto Jenner dell'Università di Oxford. Entrambi sono impegnati nella lotta al coronavirus, l'iniziativa dell'Associazione Pisani di Andrea. Marilena Pastore. La borsa di ricerca Pasquale Pisani edizione 2020 è stata assegnata a due istituti impegnati in importanti progetti di ricerca sul vaccino contro il covid-19. Una scelta doverosa per l'Associazione Pasquale Pisani Onlus di Andrea perché mai come in questo momento è necessario supportare gli straordinari sforzi messi in campo dalla comunità scientifica nel tentativo di debellare questo virus che sta funestando il mondo intero. Quest'anno la borsa di studio, la borsa di ricerca come l'abbiamo chiamata Pasquale Pisani è andata necessariamente alla ricerca contro il vaccino per il covid-19. Trattandosi di una situazione emergenziale e di una pandemia che chiaramente ha colpito a livello globale ci è sembrato o quanto mai opportuno e necessario destinare questa borsa di ricerca appunto a dei progetti di ricerca che stessero insomma andando nella direzione di trovare una cura a questa malattia che sta funestando l'intero pianeta. E in particolare abbiamo scelto appunto questi due istituti, l'Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma che per primo ha individuato il genoma del covid-19 è il DNA Institute dell'Università di Oxford che sta curando uno dei progetti di ricerca legati al vaccino per il covid-19, uno dei progetti sembra più promettenti. È chiaro che nella ricerca per il vaccino è un po' in questo momento un termo all'otto nel senso che ci sono tanti progetti in campo, tante ricerche in campo nella speranza che almeno uno sia il progetto per così dire vincente o sia che riesca ad individuare davvero il vaccino. Abbiamo individuato questi due istituti perché dopo delle ricerche, delle analisi dei progetti in corso abbiamo puntato, abbiamo deciso di sostenere questi due progetti di ricerca sperando sì che siano dei progetti che portino un risultato concreto ma anche laddove non dovessero essere questi gli istituti e di individuare la cura per il covid-19 saremo comunque contenti di aver sostenuto la ricerca scientifica che è lo scopo poi della nostra associazione. Vogliamo ricordare a quei pochi che non conoscono la ONLUS Pasquale Pisani, cos'è, perché nasce e qual è la mission? Sì, l'associazione Pasquale Pisani ONLUS nasce a fine 2017 ed è intitolata appunto a Pasquale Pisani che era un ricercatore un ricercatore scientifico ovviamente e si occupava di ricerca nello sviluppo di nuovi farmaci, aveva lavorato principalmente presso l'Istituto di Tecnologia Italiana di Genova e ovviamente quando è nata l'associazione non è nata con un mero scopo commemorativo nel senso che questo è un ulteriore elemento ma è chiaro che tutti i soci fondatori si sono posti come obiettivo principale quello sì di ricordare Pasquale Pisani ma soprattutto di realizzare delle attività concrete. noi ci occupiamo in senso lato di beneficenza ma la nostra attività principale in questi due anni e mezzo sostanzialmente è stata quella di sostenere dei progetti di ricerca, di tutelare delle borse di studio per giovani ricercatori oltre a fare un'opera di divulgazione in materia scientifica faccio un esempio anche sul territorio andriese che è il territorio che ospita la realtà associativa abbiamo avviato di recente un progetto nelle scuole che si chiama appunto Scaffale Pasquale dove forniamo una bibliografia scientifica per bambini sostanzialmente con lo scopo di infillare il sistema della curiosità nei bambini per la ricerca scientifica. grazie 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 grazie